Ciao, è il giorno 25, ci troviamo su Badrend per il 39esimo episodio, siamo arrivati ad Accelerator, direi di iniziare subito per non perdere tempo, nel frattempo vi posso dire che, capate l'altra volta comunque abbiamo iniziato, ci siamo portati avanti perché se ricordate nello scorso episodio per chi l'ha visto perché da questi giorni c'è poca gente che lo vede, a parte Cento Dolls che sta avendo visual molto dopo rispetto al giorno di pubblicazione, tipo adesso l'episodio 2, 4 della serie hanno avuto un sacco di visual e va bene, Cento Dolls si sta andando bene su questo punto di vista, però per il fatto che nello scorso episodio abbiamo fatto un pezzo di questo livello qua, e poi io ho stoppato perché ho detto, tanto non riusciamo a registrare tutto, allora ho deciso di stopparlo, però non ho stoppato semplicemente uscendo dal livello, sono riuscito dal livello senza ricominciarlo, quindi da adesso mi fa ricominciare questo livello, quindi se volete sapere il primo petto di questo livello, lo vedete nello scorso così evitiamo di rifarlo perché se no ci siamo già troppo tempo, ecco vedi, e già a questo punto è molto difficile, poi volevo dire che stasera spero di essere in live, che se vi ricordate bene, niente, ho sbagliato, ci siamo altri cloni per fare questa cosa, se no non riesco a farlo, se vi ricordate bene, il mercredizio doveva essere la live, la live di minecraft, però non l'ho fatta perché non ho avuto, non ho avuto tempo, non c'era abbastanza una buona situazione per fare la live, quindi ho deciso di non farla, ma perché muoio sempre lì, devo mettere lì sotto due e poi andare avanti con l'altra, se no, se stanno uniti non ce la fanno, perfetto, spostati, no, non di qua, dall'altra parte, vai, muoviti, però si è spostato, eh, però doveva muovere dopo, perché adesso si giocco questo, muoio, eh, infatti, praticamente il laser ti uccide due cloni, quindi sicuramente devo farne andare avanti due, dai, vai avanti, ho paura di andare avanti perché mi brucia il laser e quindi, e capite quanto è difficile, cioè, è incredibile, adesso vi metto in pausa e ve lo faccio poi per conto mio perché altrimenti non siamo solo su questo livello, ecco, ho fatto sta parte, adesso, siamo andati avanti, ma come faccio a prendere quel power up che c'è all'alto? no, grazie, no, si può prendere così, aspetta, vabbè, andiamo avanti così, è impossibile se non rallenti il tempo, ah, posso curvare il laser, aspetta, ce la posso fare, ce la posso, fare, no, non ce la posso fare, eh, sì, è impossibile sta parte, no, non riesco a prenderla, devo riavviarla ogni volta, eh, se vado avanti così non ce la faccio, e bisogna essere dei cecchini per fare sta parte, l'ho fatto però è passato solo uno, eh, non ci passo, uno deve andare dentro e l'altro invece deve rimanere fuori, e vedi che non funziona, c'è point, andiamo avanti, riproviamo, è bruciato, ma no, ma no, niente, devo bloccare anche sta parte, perché sennò, non velocizziamo la serie, allora, ce l'ho fatto, solo che il problema è stato, passare il fatto che non potessi, eh, niente, power up è bruciato, non potessi prendere il power up, perché era bloccato, oh, attenzione, e quindi, e quindi muoio, e quindi dovevo fare il percorso senza rallentamento, perché quel power up dava rallentamento, e non potevo perché, oh, posso prendere il power up qui sotto o no? no? oh, ce l'ho fatta, ok, devo fare a tempo, perfetto, non so come avevo fatto a farlo, questo cos'è? come faccio a fare questo? come? ogni volta mi stupisco di quello che, di quello che c'è nel livello, ma, è allucinante, eh, cioè, come fai? guarda, cioè, devi essere proprio, millimetrico per passare, di lì, vai, subito scendi, attenzione, e poi, ah, poi tutta una indietro, mi sembra giusto, eccolo, perfetto, bello sto livello, no? tutto scivolo, bello, ma complicato, molto complicato, e faremo alla fine un livello, è basso, perché, se sono livelli così, io non è che posso inventarmi, il tempo, dobbiamo tornare indietro, giocare questo, andare avanti, non morire qua in mezzo, grazie, non posso prendere quello, ah, devo prendere quello, allora, devo prendere quello per sdoppiarmi, perché, se no, e non me lo fa prendere, allora andiamo sopra, ok, vabbè, cambia niente, era per fare la missione, probabilmente, la cosa lì, cos'è sta roba, cos'è, vai avanti, perfetto, non sono morto, ora sono morto, non ho parole per spiegarvi quello che sto vedendo, e guarda, non lo so, cioè qua morire è un benessere, se muori sei contento, vai avanti, vai sotto, no, voglio passare in mezzo, ho perso fatta, ho spostato il laser, beh, bello, no, e poi dipende dal prossimo livello, se il prossimo livello è corto, allora è fattibile farlo, in poco tempo, però vedendo questo, mi sembra, impossibile, oh, ce l'ho fatta, sotto, in mezzo, fine, oh, allora, quanto ci vuole a fare un livello, capito che è Apocalypse, quindi è una zona molto complicata, questo come si chiama, clone onda, clone onda, ok, lo faremo la prossima volta, state capendo perché sto facendo due episodi a settimana di Badland, perché sanno tanti per finire la serie, e voglio portarvi altri giochi, giustamente, quindi, devo concludere prima possibile, farvi più episodi, che necessitano, dopo questo, che dura 10 livelli, ci metteremo poco, abbiamo fatto quasi 40 episodi della serie, devo fare questo mondo qua, 107 livelli, sperando che non siano troppo complicati, troppo lunghi come questo, però, di sicuro, il bello di completarli, anche se sono difficili, c'è, c'è la difficoltà e tutto quanto, infatti adesso mancano 4 livelli, non so, magari faremo un episodio di livello, perché, vedendo Accelerator, che dovrebbe essere un livello veloce, ci abbiamo messo un sacco di tempo, perché è complicato, quindi gli altri, saranno un problema forse, va bene, ok, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, se questo è stato, un commento, per spiegarmi le vostre curiosità, le spiegazioni, tutto quanto, mi raccomando, il vostro supporto, come dovete giro per aiutarmi a crescere, e se siete al canale, e noi puntiamo a 700 iscritti, ci vediamo se stessi live, se tutto va bene, a presto.